buongiorno sono benedetta parodi e oggi vi preparo una ricetta facile facile i gnocchetti alle simoe non servono le patate qui abbiamo della farina del pan grattato questo è un uovo del parmigiano la farina l'ho già detto e ci metterei pure una spessa che poi deciderò se andrebbe bene la menta ora lasciatemi lavorare e poi vi farò vedere come sono